Ciao ragazzi, siamo qui a fare... farci male cioè non c'è un modo diverso per dirlo mi voglio far male e quindi e quindi... e quindi vedete come lecco lecco tutto eeeh, acquacu si fotte l'anima io mi fotto l'anima l'anima di chi si ebbe essere un buon try incredibile potrebbe riprovare la shortcut incredibile ci rifà e poi il bello è che non ho visto nessuno di forte che usa quel metodo l'ho scoperto adesso io original original poi puoi scivolare in avanti e saltare non devi per forza aspettare la notatoria questa parte ma ormai la sua memoria ormai la sua memoria il tempo scende sempre di più incredibile per me oddio ma zido nooo e poi il bello che i ragazzi c'è voi direte cioè ma da che quante ore stai lì? Cioè, no, sto qua, sto qua da due minuti che faccio sta cosa, cioè, non mi do il tempo di respirare io, perché mi voglio male. Vedete come è con la minchia di Luca, Candolfo? Eh, sì. No, era perfetto, era perfetto, mi è caduta pure la webcam. E' libero. E' a, e' a soli, 12, 11 secondi. Merda di panciata. No? Io non capisco perché fai sempre quella cazzo di panciata. E' perché il tasto è lo stesso per fare la slidata. Eh, ma non... Ma se tu ti fermi, fai la panciata. Vabbè, signori, eh. Stavo per dire, oramai sto pezzo è rammasterato, invece. Quasi. Cazzo faccio, mi son bloccato, mi son bloccato, cazzo faccio. Slido sui laser. Gesù, Gesù camminava sull'acqua, io cammino sui laser. Impazzito, lo prende! No! Impazzito! Del tutto! Impazzito del tutto! No! Allora, io comunque posso dire che dopo neanche mezz'oretta riuscire a fare questo, per me, è una vera soddisfazione. C'è una differenza tra speedrunner e prova a tempo, perché lo speedrunner ti rompe il gioco e passa attraverso le pareti. La prova a tempo è quello che ti... Sì, giochi pulito usando qualche shocker, ma... Sai sapere? Quando gli sviluppatori hanno programmato un livello del genere, hanno pensato, ma chi sarà in grado di... Cioè, tu ti rendi conto che questo gioco non sono tutti in grado di finirlo. È quello che ha fatto incazzare la gente. Non che è difficile, ma perché tu non hai modo... Cioè, ci sono persone che... Non hai modo per diplatinarlo... Sì, ci sono persone che proprio fisicamente e mentalmente non è possibile che ce la facciano. A meno che non sia uno speedrunner e lo facciano come il di lavoro. Sì, perché tu conta che nei vecchi crash c'erano le reliquie platino. Però tu conta che non erano... Erano opzionali, cioè... Ci serviva almeno l'oro per sbloccare il secondo finale segreto. Invece qua, per sbloccare almeno il primo finale, devi fare tutto... No, 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 il primo finale no. Il primo finale lo sblocchi... Ci sono tre finali. Ah, il primo lo sblocchi finendo semplicemente tutti i livelli. Il secondo col 100%, quindi prendendo tutte le gemme. E il terzo con il 106%. Il 104%. Esatto, per me è il 104%. Ciao, vale, vieni a vedere il mio stream. Sto vedendo già. Vieni a vedere lo più difficile di crash o sbaglio? Ma ti sembra? No, perché a me non sembra niente. Secondo me è più easy il boss finale. Incredibile, arriva a un punto... Catartico. Questo cavaliere di merda. Come, come, come lo faccio a sta parte? Com'è possibile? No! Mi immagino Rafi su sto gioco, guarda. Non l'immagino. Basta, termino la registrazione.